ciao a tutti e benvenuti nel canale in questo video vi spiegherò come completare la prima sfida di mistica che chiede di usare una cabina telefonica quindi dovete semplicemente entrare in una cabina telefonica con mistica la trovate qui al dominio doom una è qui e l'altra è qui quindi sceglietevi la cabina che preferite indifferente l'importante è che entrate con mistica in una cabina mi raccomando dovete utilizzare questa skin altrimenti la sfida non vale quindi arrivate qui al dominio doom e entrate in una cabina molto semplice ecco sta facendo la sfida anche questo giocatore entrate e la sfida è completata